Non buscate, non buscate, non buscate, ma questo è modo di mettere uno scannicielo davanti a una... Ma questa è il modo di fitta la patica, ma la te la portano. Inconnita. Che state? Inconnita, non ti ho fatto un'altra. Non sto solo, se il signor mi lo deve lasciare, non sto solo, capisci? Oh, bellissima signora. Buonasera. Buonasera. Non mi date fastidio, non mi date fastidio. No, se vuoi che c'è la fastidio. Mi dite che prenderlo con un panteco, il dottorissimo miglio un panteco. Come stai? Ok? Non fate bene? No, buono, stai lì. No, ma come siete asciute? Ti abbiamo detto che non vi dovevate muovere. Beh, non fate bene. Eh, non fate bene, don Salvador. Signora bellissima, guarda che ho affresco come una rosa. Beh, si prende una rosa. Questo non ho pa' la cesta longa. E mi ha pregato, don Salvador, rimarite se non ho pa' la cesta longa. Ah, non mi ha pregato. Mi ha pregato, non mi ha pregato, non mi ha pregato. Mi ha pregato. Ma chi è quello? Ma il dottor non ci sta. E non sto aspettando che faccia questa longa. Quando torna ti dite che sto aspettando. Molto gentile, ti passo la mano e sta. URRAAAA! 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 URRAA! URRAAAA! 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 C'è una sigaretta? Voi non state per niente, è bene. Vecchio, ma che non dici questa porra? Ma che ti dò? Ma che ti dò? Chi ho fatto, oi? Non so io che tengo l'occhio clinico e sto dicendo che non sto a porra. Io non ho po' le vricci, non dò a dormire. Voi tra noi io ho ritratto a dormire. Cazzo io la sento a dormire. E non sapeva niente? Come? Non me l'aveva rita? E come se ne hai dovuto che sta a dormire? Io c'ho moglie, dò a dormire, c'è qua i rosci, rosci. Voi siete scusate, voi? Voi avete vita, muglietta? Eh, sì. Invece mi ha portato. Hai trovato a venne contenta? Come ho trovato a venne contenta? No! Se non ti ho visto, non hai sofferto. E infatti, lo puoi aver non sbagliato a manca cinque minuti. E' un attacco apoplettico? No, non so. Eravamo a passeggio sulla torretta. Te le vissiamo? Aspettami cinque minuti qua su questa panchita. Oggi andate a cattescare il peggiesco. Nei pazzasci fuori che le sarai riudono. Cosa tu dà? Ma tu dove sarai riudono? Ma tu non vedete niente, io non puoi volerci a far trattenere. Dottore! Hanno bussato! E' un signore che vuole parlare proprio con voi. Ma tu ti fai tutto stimolo, ma tu sei un filo, signore. Mi ha dato il suo biglietto da visita. Ma vuoi che è scemo con me? Vuole parlare proprio a quattro occhi come guadati il biglietto da visita. Sono un signore. Ma guarda il mio figlio, non vuole parlare di che è scemo con voi. Ma io sono da scornacchio! Mi abbia capito carinca. Ma io sono da scornacchio? Magari peggio. Perché mi hanno fatto a piattina da lunghi e chissà? E' questa volta che avevo qua tutto il possesso che avevo nome da noi. Sono da scornacchio! è certo, è certo, ma tradisci, ma è niente